Grazie mille Vaghe per il suo intervento veramente interessante. Quindi iniziamo. Oggi durante il nostro briefing risponderemo a quelle domande che ci sono giunte in seguito, che sono rimaste senza risposta. Tutti sono a conoscenza di come l'applicazione Jamespace è stata scaricata da circa 37 milioni di utenti, ma quanti ci sono realmente che la utilizzano? Credo che per rispondere a questa domanda ci sia il bisogno di avere delle slide. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a prepararle, poiché esse vengono preparate per l'intervento dei nostri esperti di marketing. Quando vi sarà il loro intervento vi diranno le statistiche per paese, per conversione, per retention, vi diranno quindi le cifre esatte. Nel passaggio alla nuova giurisdizione e forma organizzativa si condurranno stime di diversi progetti o ci sarà un resoconto solo del fondo in generale? I progetti verranno stimati in maniera separata, proprio su questo stiamo lavorando attualmente e tra poco tempo sicuramente vi meraviglieremo. Ci dica in modo più semplice in cosa consiste il fondo e perché è una variante migliore. Il fondo per gli investimenti è una forma di organizzazione di un ente giuridico specializzata nell'investimento nell'ambito di progetti di alta tecnologia ed è proprio per questo che viene realizzato il resoconto di tutti gli azionisti e si ha quindi una licenza. Per quanto riguarda la differenza con la giurisdizione delle Marshall, di questo ho già parlato in precedenza ma posso nuovamente soffermarmi su questo punto riferendovi quali sono i vantaggi delle Mauritius è una democrazia in primo luogo stabile, gode di un diritto doppio fondandosi sul diritto francese ma anche britannico è un collegamento veramente interessante, la forma giuridica francese e britannica quindi europea e continentale è membro dell'organizzazione FATCA e dell'organizzazione OSR dei paesi più sviluppati e inoltre una sorta di get away, un punto di incontro tra Africa, India, Cina godendo della collaborazione di banchi di diversi paesi avendo quindi la possibilità di investire in diverse valute come le rupi ad esempio, moneta indiana anche gode dell'interazione con banche veramente importanti e ben integrate con banche europee ma non solo anche americane non si trova in nessuna lista nera, non ha territori offshore o territori che sono interessati dall'evasione fiscale vi è anche una grande quantità di accordi su questo tema ed è inclusa nella classifica dei 20 paesi dove è più comodo intraprendere il proprio business ed è in breve quello che ricordo, quello che mi è rimasto in mente e inoltre il fondo che riceverà registrazione e licenza avrà la possibilità di interagire con tutti i paesi del mondo tranne che quelli sotto sanzioni, sanzioni apposte dalle Mauritius considerando che però le Mauritius non ha imposto sanzioni sarà possibile svolgere interazioni con tutti quando si potranno acquistare le azioni GemMarket? quando verrà concluso il progetto GemSpace? per prendere parte al fondo si può lasciare parte delle azioni di GemSpace ad esempio l'investitore possiede più di 1000 azioni dopo la vendita nel fondo se si vuole ricevere metà dei mezzi e l'altra lasciarla sarà possibile? questo già lo stiamo prevedendo ma aspettiamo il memorandum dove tutto verrà riferito e l'ultima domanda molto interessante in quale città vivranno i sostenitori di Gem? beh io non sarei così affrettato sicuramente vivrete dove vi è più comodo e purtroppo prevedere tutto questo non è possibile quindi ognuno deve vivere in quel posto dove più gli piace più si sente comodo perché è la cosa diciamo più importante vi è un'altra cosa di cui vorrei parlarvi ed è ciò di cui mi chiedono la gran parte delle persone molto probabilmente se adesso chiedessi in chat dove ci sono più di 500 persone se vi sembra come ad oggi il mondo si trovi sulla soglia di qualcosa di strano come nei film di Schuker ed è collegato al fatto che cambia la funzione la funzionalità dei soldi potete scrivere anche in chat chi ha questa impressione? vi sono comunque molto spesso vengono fatte queste domande soprattutto durante i nostri briefing e vorrei quindi dire due parole riguardo a questo tema sapete cerchiamo quindi di capire cosa sono i soldi quali funzioni hanno i soldi? i soldi sono sicuramente uno strumento di fiducia e ognuno di noi dovrebbe avere fiducia nei soldi ma la cosa più interessante è ciò che succede oggi i soldi e il proprio funzionale hanno smesso di essere soldi nel vero senso della parola siete d'accordo? capite come se noi mettiamo da parte dei soldi per il nostro futuro non è sicuro che questi potranno essere spesi o potranno essere utilizzati cosa è successo? i soldi hanno smesso di essere soldi stiamo entrando in un'epoca veramente strana in un'epoca in cui tutti i concetti base su cui noi ci su cui non contavamo non funzionano più non hanno più la stessa validità di prima insieme a noi quindi va via quella che è la fiducia verso i soldi non è importante quali dollari altre valute come ad esempio rupie ad amman c'è anche una valuta interessante il dinaro uguale a tre dollari e quindi i soldi hanno smesso quindi di avere la funzione di cui prima erano caratterizzati e abbiamo notato soprattutto come lasciando dei soldi in un deposito in banca vi è l'impressione che questo l'ho sentito molto spesso che divenendo creditori di banche queste banche dovrebbero poi restituirceli ma ricordiamo come delle banche di Cipro abbiano prelevato il 40% di una somma di denaro per pagarsi il deposito quindi i tempi sono veramente cambiati facciamo attenzione a questo e facciamo attenzione alle banche i soldi quindi come mezzo di conservazione del costo ad esempio prima si potevano comprare con 100 dollari o anche oggi tre padelle ma tra un po' di tempo questo non potrà essere possibile perché anche stampando trilioni di euro questo non sarà possibile contando come vi sia un aumento dei costi in generale quindi si ha un vero e proprio controllo sui soldi sul denaro e questo può essere che con l'introduzione delle criptovalute della valuta digitale vi sarà la creazione di una vera e propria catena ci sarà un vero e proprio controllo se prima combattevamo con il narcotraffico e con la droga ad oggi si combatte con le persone comuni questo lo abbiamo notato e i soldi come accumulo per il futuro ci lascia un po' sorpresi purtroppo le persone hanno capito come la festa tra virgolette sia finita e questo controllo sia sempre più assiduo purtroppo anche mettere da parte dei soldi per la propria affinzione sia abbastanza difficile io in genere non amo dire queste cose apocalittiche ma cerco di ragionare insieme a voi e di trovare una sorta di uscita che prima magari potevano essere immobili capire quindi dove ci troviamo in tutti i paesi bisogna capire come i debiti crescano e da chi verranno riscattati sicuramente da coloro che hanno questi immobili che verranno poi confiscati quindi è una situazione veramente difficile sapete sapete quella storia sull'orso quando due persone cercano di correre dall'orso uno si ferma per cambiarsi le scarpe il secondo pensa come si debba correre più velocemente dell'orso ma il secondo risponde come la cosa più importante sia correre più veloce della seconda persona per non essere mangiati quindi i soldi allo stesso modo smettono di avere quella funzione che avevano prima in un certo senso sacra e naturalmente i governi più forti cercano di crearsi un sistema di stabilità intorno io e questo è inoltre una delle motivazioni per cui abbiamo scelto le Mauritius è una zona abbastanza sicura anche da questo punto di vista per far sì che non vi sia nessuno scoppio figurativo e vi sia quindi una perdita di denaro purtroppo vi sono ancora molti dubbi e condivido la percezione di come i soldi abbiano perso la propria funzione di fiducia e di mezzo sicuro per il futuro sicuramente considerando anche le domande che ci fate durante i nostri briefing se non vediamo quindi una sorta di uscita e la nostra fiducia verso i soldi smette di crescere non vediamo sicuramente altre alternative per risolvere questa situazione e nasconderci la funzione quindi di quando le nostre valute in un certo senso digitali si svilupperanno insieme anche all'intelligenza artificiale sicuramente renderà il sistema molto più sicuro con il controllo grazie anche all'intelligenza artificiale che controllerà ogni movimento capirete cosa significa essere come si diceva in quel famoso film sotto l'occhio di Müller quindi ma vedendolo da una sorta di punto di vista diverso capiamo come stia accadendo una vera e propria riforma a livello mondiale da un punto di vista finanziario e la cosa più importante è che voi abbiate sicuramente i vostri soldi disponibili per qualsiasi momento a qualsiasi momento e la cosa più importante è che le banche anche non annullino quelle che sono le vostre transazioni e sicuramente come si dice in un modo di dire molto famoso chi cerca trova quindi con tutte queste domande noi ci prepariamo a quello che è il nostro futuro e nonostante quella che è la riforma attuale da un punto di vista monetario cercheremo di trovare una soluzione e cercheremo anche che cercheremo anche di risolvere delle situazioni molto complesse per chi non ha potuto mettere da parte dei soldi cercare di migliorare questa fiducia verso i soldi come diciamo sempre nel consiglio dei dirigenti credeteci è veramente difficile ci troviamo quindi una nuova giurisdizione cercando di migliorare quella che è la nostra situazione ma anche noi da un punto di vista intuitivo e cercando di ricevere dei segnali dal futuro cerchiamo e capiamo che bisogna creare un attivo che sia legale su tutti i territori e questo attivo dovrebbe quindi cercare di accrescere il proprio costo vi sarà quindi una disponibilità monetaria grazie a questo attivo che ci permetterà di passare per come dire attraverso diversi filtri e sarà quello che ci permetterà di guardare al futuro nonostante tutto con questi ragionamenti quindi concludo il mio intervento spero che vi sia piaciuto e che le utilizzerete nei vostri progetti grazie mille per l'attenzione e do la parola al collega di cui vi racconterà che vi racconterà di cose molto utili e utili informazioni molto utili e interessanti grazie mille grazie a tutti